A confirmati! A confirmati! Vai, vai! Limpo! Limpo! Chi è che va sotto? Sì, dove... Hey! Vai, aspettai che aggancio! Aspetta... è uscito il santo il vino ci ha buttato Michael il vino il vino la fiamma dove metto la mano oh Cristo ando caglia 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 quando li dañado con il chaglia con il chaglia caglia